Presidente, stamani è tornato a parlare del problema dei pendolari. Per la prima volta c'è un po' una visione comune anche col Presidente di Ferrovie dello Stato sulla necessità di non creare passeggeri di serie A e di serie B. Cosa si aspetta che possa succedere adesso? C'è un cambio di passo anche di ferrovie? Noi vi aggiorneremo. Noi intanto abbiamo importante questa cosa della Pistoia-Lucca, il raddoppio. Lo Stato ci mette 200 milioni, 220, noi ce ne mettiamo altri 236. Vogliamo fare un accordo di programma perché le cose devono partire rapidamente e questo è un altro cambiamento decisivo perché tutta la zona appenninica per venire da Lucca a Firenze impiega qualcosa come un'ora e mezzo, un'ora e quaranta e sono 78 chilometri. Con il raddoppio questo significa che invece dovrà impiegare più o meno allo stesso tempo che si impiega da Pisa a Firenze che sono 82 chilometri e quindi 45 minuti, 50 minuti, un'ora. Un cambiamento che avrà importanti ripercussioni sulla mobilità in Toscana e anche sulle famiglie, su chi si sposta per lavoro. Vogliamo farlo quanto prima. Poi l'accordo con Trennitalia si stanno rifacendo, saranno accordi che misureranno molto la puntualità, la regolarità, linea per linea, è un accordo molto più stringente. E poi ormai sta venendo a conclusione il rinnovo di tutto il materiale rotabile, come lo chiamano, locomotori e anche vagoni passeggeri. Ormai entro il 2015, con l'ultima fornitura per la quale abbiamo speso 50 milioni come Regione, avremo anche treni diesel sulle vecchie linee che si stanno riaprendo, come appunto quella Grosseto-Siena nelle prossime settimane e presto anche la Porrettana. Noi ci scommettiamo moltissimo e siamo stati i primi a denunciare anche con azioni di protesta, io montando sui treni, che il livello di mobilità su ferro regionale non era sostenibile a fronte anche del fatto che questo Paese ha speso decine e decine di miliardi per l'alta velocità. Cosa giusta, ma è una cosa che riguarda 50 mila persone. Sapete quanti riguarda il trasporto regionale? In Italia 5 milioni di persone, quindi decine di miliardi per 50 mila persone, quasi nulla per 5 milioni di persone. È venuto il momento di rifare un'operazione di giustizia che vada incontro ai lavoratori, ai pendolari, agli studenti che prendono il treno tutti i giorni.